Buonasera, mister Massimo Canta di Carta Canta. Sì, qualcosa hai già detto tu, a parte i primi minuti dove avete avuto veramente delle occasioni per fare gol. Poi la squadra pian piano, a parte i cambi, però si è spenta, no? D'accordo, potete cambiare qualcosa, però è mancato poi qualcosa. No, ma sembra abbiamo giocato soltanto i primi minuti? No, nel senso che comunque un primo tempo va bene combattuto, le occasioni però avete avuto comunque nella prima parte del primo tempo. Posso suggerirvi che questa sera c'era la prima in classifica contro l'ultima. Sì, però è prima stasera. Sì, però è difficile, ok. Inizio arrembante, poi mi sembra che la squadra abbia assolutamente dominato la partita per i primi 30 minuti, è calata nel finale del primo tempo. Ha subito dal 55esimo, quando abbiamo incominciato a subire qualche contropiede perdendo palla banalmente nella metà campo avversario. Stranamente, giocando palla direttamente agli attaccanti l'abbiamo persa e loro quando ripartivano eravamo lunghi, mancava filtro in mezzo al campo. Poi abbiamo pagato questo, perché se avessimo mantenuto il palleggio, se avessimo mantenuto le distanze, perché poi i gol sono sicuramente evitabili, ma c'è una corsa nettamente diversa, perché è mancata proprio questa... Non voglio chiamarla fisicità, perché comunque nel primo tempo la squadra ha corso molto bene, aveva una velocità di corse diversa e sui gol potevamo correre in maniera migliore. Poi ci sono le abilità degli avversari, sicuramente il secondo tempo sotto tono rispetto a quello che abbiamo fatto nel primo tempo.